Fonto Alessandro Baldi, Pilgrim Cash, Manlio Capanna, in seconda, Poesia dei venti, Enrico Bellei. Piano come sempre Pilgrim Cash, mentre è veloce, Petrolio Lux, all'attacco di Pianetta Bag, sbaglia Petrolio. E allora su Pianetta Bag va Pathos OM. Pathos che sfila su Pianetta e Pachito, 215, con Pathos che va via di buona lena e prende un bel vantaggio su Pianetta Bag che precede Pachito, Poesia dei venti, Porsche Font, poi Pascal Oppie, infine Pilgrim Cash e Petrolio. Quest'ultimo però è stato squalificato. 37,4 per i primi 500 metri, visto che mi è saltato il paletto dei 400. Vediamo il 600 ora, 45 e mezzo. Va via veramente di gran lena questo Pathos OM, che ha direi almeno 40 metri di vantaggio sul gruppo, 800 in 1.1. Si va ora verso il completamento del primo chilometro con Pathos OM, vediamo un po', direi una sessantina ma forse anche più di metri di vantaggio. 1,15 abbondante il primo chilometro. La corsa degli altri è capeggiata sempre da Pianetta con allargo Pachito, poi Porsche con allargo Poesia, in terza Pascal Oppie, quindi Pilgrim Cash. Pathos OM inizia il secondo chilometro con un paletto in 14.7, affronta isolato al comando anche l'ingresso sulla retta opposta alle tribune. Poi Pianetta e Pachito, Porsche e Poesia, mancano 600 per arrivare a casa. 15.3 l'ultima frazione di Pathos OM, che a metà della retta opposta ha vantaggio immutabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I colori, i classici colori.